Finalmente arrivano anche le finali regionali, dopo le finali territoriali che sono disputate in ogni provincia, quindi oggi Messina ha la fortuna di organizzare questa finale regionale di S3, quindi prevederemo circa 150 mini-atleti che competiranno per la finale regionale e più ovviamente verranno fatti anche dei campetti per attività promozionale, quindi ci saranno circa un 500 bambini. Alla presenza del midico Andrea Lucchetta che sarà a promuotere di questa manifestazione. Atleti di età compresa? 2010-2014, 2012-2014. Assi rinascenti insomma? Sì, assolutamente sì, ci saranno quella di primo livello e di secondo livello, primo livello maschile e femminile misto, mentre il secondo livello femminile e maschile che poi si andranno a disputare per le finali nazionali. L'appuntamento è per sabato 11 maggio? E sì, per sabato 11 maggio alle ore 9.30.